Con l'inaugurazione della mostra C'era una volta la guerra, alla presenza del gonfalone della città metropolitana di Torino, sono iniziate a pianezza le manifestazioni con cui si celebra il centenario della prima guerra mondiale. La mostra è allestita a Villa Casalegno, è visitabile sino al 9 giugno, il sabato e la domenica, dalle 9 alle 12 e 30 e dalle 15 alle 18. Gli appuntamenti compresi nel calendario di eventi Grande Guerra, un viaggio nella memoria, sono organizzati dal Comune di Pianezza in collaborazione con la Prefettura di Torino e con il Comando Militare Esercito Piemonte e con il supporto del Museo Storico Nazionale di Artiglieria e di numerose associazioni di militari in congetto delle diverse armi e specialità. A Pianezza è anche possibile ammirare l'ufficio postale militare da campo numero 51 che fu utilizzato in Carnia durante la prima guerra mondiale e in Tunisia durante la seconda. Il programma delle celebrazioni e delle manifestazioni è consultabile sul portale internet www.comune.pianezza.to.it e prevede tra l'altro presentazioni di libri, un Alexio Magistralis del professore Alessandro Barbero su Caporetto, venerdì 1 giugno alle 10 nel Salone delle Feste della Proloco e un concorso sulla Grande Guerra riservato alle scuole di primo e secondo grado.